Il quarto di finale, una semplice formalità. L'Italia ha già testa e cuore alla semifinale di domani con l'Ungheria. La squadra Maggiara, calcoli alla mano, ha proprio cercato le azzurre per la sfida decisiva. In Palio ci sarà un posto per l'Olimpiade. Attesa e pressione per un'Italia che nella sfida stravinta con la Slovacchia ha acquisito ulteriori certezze. Quello che ci siamo detti anche con Palio è comunque proviamo le nostre cose, comunque prendiamo certezze e concretezza del nostro gioco. A prescindere da chi abbiamo davanti, questo è il nostro gioco, portiamolo avanti fino all'ultimo secondo. Quindi l'abbiamo sfruttato anche per questo. Io penso che le partite che giochiamo servono tutte, specialmente in un momento in cui abbiamo giocato veramente poco contro altri avversari. Quindi serve, serve approvare il nostro gioco in ogni parte, difesa, attacco, pur avendo davanti dell'avversario non fortissimo, ma comunque serve per fortificare il nostro gioco.